Ringraziamo gli amici di Radio Radicale che hanno voluto trasmettere in diretta non solo sullo streaming ma anche sulla radio a livello nazionale questo incontro. Siamo ovviamente a Pescara, nella sede del comitato elettorale di Luciano D'Amico, con anche Angelica, rappresentante delle giovani start-up innovative di questa regione, e il mitico Giovanni Legnini che non ha bisogno di presentazione perché è stato già vicepresidente del CSM ma solo perché lo presideva il Presidente della Repubblica e quindi non potevi fare il Presidente, ovviamente. Ma sicuramente persone anche lui estremamente di qualità. E oggi, proprio nella giornata tra l'altro finale di questa entusiasmante campagna elettorale che ha visto una crescita di attenzione e di consenso rispetto alla candidatura del ex rettore dell'Università di Teramo, abbiamo pensato di dedicare questo momento a una bruttese illustre che è Marco Pannella. Quindi la scelta è voluta, io poi ho scoperto che Luciano era stato anche il rettore che aveva voluto dare, ma questo lo dirà lui, a Pannella la laurea onoris causa, cosa non comune perché non l'ha fatto perché pensava di candidarsi, l'ha fatto perché era una persona lungimirante molto prima di candidarsi come candidato civico in una regione che ha bisogno di un cambiamento vero. E quindi oggi l'idea era quella di utilizzare la presentazione del libro che ho dedicato a Marco Pannella ma che è uscito durante la pandemia, non lo potevo prevedere, quindi abbiamo fatto poche presentazioni perché come sapete all'epoca non si potevano fare cose pubbliche. Ma essendo un libro che parla di Pannella ecologista e antipartitocratico, è un libro che parla di Marco Pannella che è stato il primo parlamentare antinucleare, è stato uno dei sostenitori della nascita dei Verdi, io lo posso dire avendoli fondati i Verdi che Pannella fu quello che dette il sostegno, e addirittura dette il simbolo storico perché lo comprò dagli antinucleari danesi per poi darlo gratuitamente alla federazione delle liste verdi. Quindi un ecologista è il primo gruppo parlamentare al mondo antinucleare, fu quello dei radicali nel 1976, pensate, e oggi abbiamo ancora chi ci ripropone il nucleare da fissione, quindi vorremmo chiedere alla destra se pensano a due o tre centrali anche in Abruzzo magari, no perché Salvini ha detto che la vuole mettere a Milano, quindi non so se i leghisti hanno altri regalini anche per altri posti d'Italia. Voi sapete che il nucleare da fusione è quello che ha un senso e può avere un futuro, ma quello da fissione è il vecchio sistema nucleare radioattivo pericoloso e a rischio, quello di Chernobyl e Fukushima, tanto per fare due esempi abbastanza noti al mondo. Quindi Pannella quello e poi Pannella antipartitocratico, cioè Pannella che inventa le campagne contro il finanziamento pubblico dei partiti, ero giovanissimo quando feci i miei primi comizi da 19 anni addirittura, per il referendo contro il finanziamento pubblico dei partiti e fu il primo comizio affollato, perché in genere i comizi dei radicali c'erano 30, 40, 50 persone e 2.000 persone in piazza nel Cilento, perché la gente era antipartitocratica già allora, tanto per essere chiari. Pensate che in questo libro ho fatto un paragone incredibile, che fine anni 70, referendo al finanziamento pubblico dei partiti, il voto contro il finanziamento pubblico è stato lo stesso, più o meno distribuzione, del voto che hanno avuto i 5 Stelle esattamente 40 anni dopo alle elezioni del 2018. Cioè il Sud votò già all'epoca 40-50% contro il finanziamento pubblico e contro i partiti, mentre il centro-nord era quello che era un po' meno cauto. Quindi c'è questo istinto, perché dico questo? Perché poi ho detto agli amici del Movimento 5 Stelle che Pannella i soldi del finanziamento pubblico li restitui con una famosa restituzione delle 50.000 lire a singoli cittadini a Roma, che si fece una fila esagerata fino a che lo restituivano in Campidoglio, perché loro restituivano i soldi che dicevano non era giusto il finanziamento pubblico. I 5 Stelle hanno rifatto dopo anni la stessa battaglia antipartitocratica rispetto proprio al finanziamento dei partiti. Quindi alcune cose importanti, ma per parlare di un grande visionario, di un grande abruzzese, molto legato a questa terra. E io penso di essere uno degli ultimi testimoni diretti di quest'omore, perché nel 2016 fu l'ultimo che andò a trovarlo quando già non stava bene. Gli proposi di sostenere il referendum contro le trivellazioni petrolifere. Era l'epoca del governo Renzi e Renzi voleva fare le trivellazioni. Si fece il referendum contro le trivellazioni. Lui volle fare l'appello a andare a votare, votare contro le trivellazioni, parlando però proprio dell'Adriatico, del suo Abruzzo e della parte, come dire, di fronte Teramo, di fronte insomma alla costa Adriatica. Poi io so che adesso voi avete più mari grazie al Presidente uscente, quindi però all'epoca di Pannella e anche quello che so io c'era solo l'Adriatico. Poi insomma, poi anche il Marseillino, sanno vari mari. Quindi a parte questo, l'idea oggi era quella di fare in modo di ricordare una figura importante, anche un insegnamento, io perché l'ho chiamato l'elezione di Marco, perché Pannella è stato uno di quelli che ha saputo fare politica anche senza incarichi istituzionali. Io da giovane alternativo, perché io fin da ragazzo a 15 anni ho fatto la prima lista nel mio liceo classico contro comunisti, democristiani, fascisti, punto a tutti qua. Sono sempre stato civico come connotazione mia, quindi sono contento del candidato civico, perché credo che i partiti erano e restano una struttura importante, lo dico agli amici del PD, che io adoro ovviamente come miei alleati storici, però i partiti sono un po' obsoleti. Infatti, giustamente prima, un bravissimo giovane del PD mi diceva sì, ma noi siamo talmente alternativi che abbiamo scelto il candidato, proprio perché era il candidato che non era iscritto al partito. Quindi insomma, c'è questo fermento alternativo un po' dappertutto. Perché dico Pannella è un grande insegnamento? Perché Pannella è il motivo per cui lui ha dato la laurea in scienza della comunicazione, il primo che mise un nome dentro una lista e sembrava una cosa surreale, ma come lista Pannella, che so ste cose qua. Oh, non c'è quasi una lista che non abbia un nome negli anni. L'ha messo poi Berlusconi, l'hanno messo poi pressoché tutti, anche Beppe Grillo, lui ovviamente perché è candidato presidente, ma come vedete alcuni pezzi che sembravano all'inizio cose incredibilmente di rottura, poi sono diventati elementi invece di visione anticipatoria. L'altro pezzo è l'insegnamento vero che la politica si fa a prescindere dall'incarico istituzionale. Se tu hai delle idee, decidi di fare politica. L'incarico istituzionale è solo uno strumento. Io che le ho fatti, devo dire, quasi tutti gli incarichi istituzionali, mi manca la presenza del Consiglio, ovviamente, perché sono stato eletto consigliere comunale, assessore, consigliere regionale, provinciale, deputati italiani e deputati europei. Quindi ho fatto tutto questo. Sempre con le preferenze e quasi sempre, come dire, eletto, avendo un vero consenso e non in bocca. E anche la Repubblica, quella la lascio per Legnini. Quindi, Ubi Maior, mi faccio un passo indietro, faccio più di due passi indietro. No, dico perché questo? Perché oggi troppa gente mi chiede, Alfonso, ma lo sai, mi devi dare una mano, che vuoi fare? Il consigliere comunale. Vabbè, per fare che? Per fare il consigliere comunale. Voglio fare il consigliere regionale. Per fare che? Il consigliere regionale. Ho detto, scusa, ho capito, per fare che? Vuoi mettere un impianto nucleare o vuoi mettere un impianto solare? Io, come dire, sono indifferente, non sono indifferente, ritengo che tu vuoi avere idee opposte alle mie, ma almeno dovresti avere un sogno. E la candidatura è funzionare a fare qualcosa. Cioè, voglio andare a fare il consigliere comunale perché voglio, come io, da ragazzo, a Salerno, penso, io ho cominciato, pensate che, a fondare i Verdi, e avevo segretario del PC, un tale Vincenzo De Luca, non so se avete mai sentito nominare, segretario, sta all'inizio del PC. E i socialisti erano Carmelo Conte, ministro socialista. E io ero, il mio voto era determinante per mandare la DC all'opposizione. E quindi io feci una trattativa e riusci a ottenere, di pedonalizzare il corso, aprire il depuratore, chiudere il cementificio, e devo riuscire a ottenere tutto. Grazie al fatto che ero diventato consigliere, ma per fare una cosa. Non per fare il consigliere in quanto status. Oggi, troppe volte, l'attività politica è lo status. Cioè, io penso di fare il consigliere, penso di fare questo. No. Pannella, quello che ha dimostrato è che quando era deputato, quando non era deputato, le battaglie facevano lo stesso. I referendum, le iniziative, si fanno... Se hai credibilità e autorevolezza, non hai bisogno del posto istituzionale. Quello può essere uno strumento in più aggiuntivo. Questo è quello che io volevo dare come messaggio e credo che è molto bello, ne abbiamo parlato con l'autorevole candidato alla presidenza dell'Abruzzo, e l'idea è di ricordare Pannella in questo momento di campagna elettorale come un abruzzese, coraggioso, innovativo, eccetera, che è esattamente quello che Luciano D'Avico vuole essere come candidato presidente di questa regione. Grazie, grazie ad Alfonso per questa opportunità che ci dà oggi di poter tornare a riflettere, a discutere sulla lezione, lo dice il titolo del suo libro, la lezione di Marco. Io ricordo le difficoltà che abbiamo avuto quando proposto in Senato accademico la laurea Noris Causa, che erano di questo tipo. Gliela diamo perché ha innovato nella comunicazione politica e obiettivamente ha stravolto la comunicazione politica. Ci ricorderemo tutti quando insieme a Demma Bonino venivano nelle tribune elettorali imbavagliati ed erano tribune elettorali che poi non sono state più le stesse. Ci ricordiamo tutte le altre modalità di comunicazione politica che Marco Pannella ha davvero, con una originalità straordinaria, proposto e che poi sono diventate le modalità consuete. Alfonso ricordava prima il nome nel simbolo, ma oltre al nome nel simbolo ricordiamo tutte le azioni, tutte quelle operazioni che all'inizio ci sembravano quasi scioccanti, ma che poi hanno cambiato in modo radicale e irreversibile la comunicazione politica. E altri in Senato dicevano ma no, ma lui ha portato avanti i diritti civili, li ha spostati in modo significativo perché ha fatto delle battaglie straordinarie e in Italia non si ragiona più come prima delle battaglie di Marco Pannella. E quindi gli conferiamo in scienze della comunicazione per l'innovazione nella comunicazione politica o in scienze politiche per la capacità che ha avuto di spostare in avanti e di tanto i diritti civili, la sensibilità degli italiani. O gliela diamo addirittura in giurisprudenza, gliela conferiamo in giurisprudenza, perché poi lui tutte le sue battaglie le ha fatte da fine conoscitore dello Stato. è riuscito a trovare nella macchina dello Stato, nella macchina istituzionale, tutti quei piccoli spazi, quei piccoli interstizi che gli hanno consentito di attivare dei meccanismi che poi si sono autoalimentati, a cui poi lo Stato ha reagito anche riformando le sue istituzioni. Ecco, questa è l'immagine di Marco Pannella che conservo di una discussione in cui non si discuteva se conferire o non conferire una laurea, ma se conferirne una o conferirne tre, che sarebbero state tutte ugualmente, come dire, ottimamente conferite, veramente ottimamente conferite. E mi fa piacere che oggi presentiamo questo libro, perché questo libro sarebbe stata una motivazione di gran lunga migliore rispetto a quella che elaborammo all'epoca e che sottoponemmo alla Ministra dell'Università per ottenere il relativo decreto di approvazione. Il decreto arrivò subito e arrivò con grande premura per l'autorevolezza che Marco Pannella riusciva ad esprimere e per la condivisione del progetto di riconoscimento di questa autorevolezza. Arrivò subito, direi anche in un momento in cui Marco aveva già la malattia che poi lo ha strappato, poi ce lo ha davvero sottratto in un momento in cui forse ci sarebbe stato ancora tanto bisogno di averlo qui con noi. E noi fumo felicissimi di conferirgli questa laurea e ricordo che Giovanni Legnini, a cui mi fa piacere ricordare, è stato il primo a ricevere l'ordine al merito del nostro Ateneo, l'ordine di Guido II e intervenne anche Giovanni e riuscì, riuscimmo tutti insieme con enormi difficoltà a contenere l'intervento di Marco Pannella. Ricordo Giovanni, ricorderei anche tu, si dovette alzare a un certo punto Gianni Letta e strappargli il microfono dalle mani perché ci stava raccontando tutta la sua esperienza politica straordinaria e gigantesca, ce la voleva raccontare in quella circostanza. Quindi sono felicissimo che oggi si torni a discutere del ruolo della figura di Marco Pannella e dei principi che grazie a lui poi si sono affermati. E per questo ringrazio Alfonso che è qui con noi, ringrazio Giovanni che è qui con noi, ringrazio tutti voi perché credo che faccia bene discutere di questi principi e faccia bene ricordare la vita che Marco Pannella ha dedicato, davvero l'ha dedicata, io mi sento di dire, alle istituzioni e all'Italia. Lui, lo diceva prima Alfonso, soprattutto negli ultimi anni avvertiva un legame sempre più forte con l'Abruzzo e negli ultimi anni tornava spesso a Teramo, si metteva lì nei tavolini del bar in Piazza Martiri e si formava immediatamente un capannello che lui avrebbe voluto di discussione ma diventava presto una lezione di politica che lui generosamente regalava a tutti noi teramani che sapendo della presenza di Marco ci precipitavamo in Piazza Martiri per ascoltarlo. Sono contento di questo, credo che la memoria di Marco e il lavoro di Marco vada onorato in tanti modi, io ne propongo uno su cui avremmo voluto già lavorare anche come Ateneo che è il mettere in sicurezza l'archivio di Marco Pannella. L'archivio di Marco Pannella è un archivio sterminato che andrebbe mantenuto nella sua unitarietà e andrebbe messo a disposizione degli studiosi perché credo che sull'opera di Marco Pannella ci sia molto da studiare. Spero che si possa realizzare questo, sicuramente è un progetto che anche come Regione al di là adesso dei risultati elettorali che ci saranno io credo che sia nell'interesse della Regione Abruzzo promuovere la salvaguardia di questo poderoso archivio e metterlo a disposizione di tutti gli studiosi. Altro progetto credo che ce lo annuncerà Alfonso Frano Molto e sono felice di poter partecipare a questa ideazione. Grazie. Grazie, grazie al candidato presidente, per ora ancora candidato e l'idea è quella che noi vogliamo, e mi fa piacere che lui lo possa anche dare come uno dei contributi per questo ultimamente di campagna elettorale è quello di pensare a 100 borse di studio per giovani abruzzesi dedicata alla figura di Marco Pannella su tre grandi campi quello dell'ecologia, quello della non violenza perché non dimentichiamoci che in un'epoca di guerra eccetera Pannella fu un eroe della non violenza e quello dei diritti civili che restano una grande priorità di tutti quindi fare in modo che ci possano essere e io spero che io lancio come proposta al candidato presidente e se il candidato presidente dice sì potrebbe essere uno degli ultimi annunci prima del voto ovviamente poi ce ne saranno migli altri prima delle elezioni prima di essere eletto perché mi sembrerebbe importante anche il senso anche di perché ho invitato le start up innovative io vorrei che ci fosse anche un progetto che nei prossimi cinque anni si dimezzi il numero di giovani abruzzesi che devono andare all'estero o in altre regioni per fare le loro start up innovative e le loro innovazioni quindi il progetto delle 100 borse di studio è di dimezzare la necessità dei giovani abruzzesi di andare fuori per fare cose belle che possono fare qua grazie a una regione eco digital come dico io che abbia infrastrutture digitali oltre che qualità della vita sufficiente che ne dice il candidato presidente? sì approvato ha detto solo sì e quindi è una cosa veloce va a fare un attimo una breve intervista mentre noi continuiamo con Giovanni Legnini Giovanni grazie grazie Alfonso ti ringrazio perché si sente perché perché ci hai abituato negli anni e io a mia volta mi sono abituato con te a a delle felice intuizioni diciamo così come quella che hai avuto questa mattina per questa mattina di ricordare attraverso la presentazione del tuo libro che io non conoscevo ma che ho rapidamente conoscenze che ho rapidamente recuperato a partire dalla giornata di ieri e questa testimonianza che contiene anche indicazioni molto preziose sotto il profilo programmatico ma è quella che ci hai appena ci hai appena ricordato Alfonso del quale mi onoro di essere amico pratica esattamente ciò che prima ci ha ricordato coltiva una dimensione politica molto ricca molto stimolante capace di produrre iniziative realizzare progetti eccetera prescindendo appunto dalla funzione istituzionale pro tempore il che costituisce appunto un bel modo anche per testimoniare la stima la considerazione per grandi personalità come quella di Marco Pannella che è stato un grande italiano per tutte le ragioni che conosciamo e che sono state ricordate ma è stato anche un grande abruzzese lui non 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 ha fino agli ultimi anni della sua esistenza non sottolineava spesso questa sua estrazione non credo per una scelta per una decisione ma perché la sua figura era talmente cittadina del mondo appunto la dimensione transnazionale eccetera per cui non non sottolineava le sue radici poi questa esigenza invece la manifestò a conclusione anch'io mi emozionai in occasione dell'ultimo incontro che ebbi con lui quando decise di sua iniziativa che mi mi rese molto felice di venire a Palazzo dei Marescialli ricordiamo tutti le sue battaglie per la giustizia giusta per la condizione dei detenuti la condizione carceraria eccetera battaglie enormi che lui portava avanti nel corso degli anni e venne a parlarmi proprio di questo della condizione di vita dei detenuti della magistratura di sorveglianza in quella circostanza credo di ricordare risalendo a 2015 2016 in quella circostanza lui ebbe proprio a sottolineare con molto patos il bisogno di riscoprire di più le sue radici terramane di lì a poco arrivò la laurea onoris causa dell'Università di Teramo che Luciano Amico ci ha ricordato adesso le cui motivazioni ci ha ricordato e a seguire poco prima della sua scomparsa che ci ha molto addolorato a tutti credo a tutti gli italiani anche che è la cittadinanza onoraria della città di Teramo questa tua iniziativa oltre a consentirci di conoscere il tuo bellissimo libro che rappresenta uno spaccato di storia nazionale molto poi ci torno un attimo seppur molto sinteticamente questa tua bella iniziativa ci consente anche di svelare una uno dei tanti meriti di Luciano Amico rettore dell'università di Teramo Luciano decise propose di conferire la laurea onoris causa non soltanto a Marco Pannella ma anche a molte altre personalità Elio Di Ruppo per esempio ricordo bene e poi altre onorificenze a parte quella che mi riguardava e comunque venti riuscì a connettere in quegli anni l'università teramana l'ateneo teramano con grandi personalità di rilievo nazionale e internazionale a quindi a riposizionare l'università di Teramo su un livello di prestigio di autorevolezza di forza che aveva smarrito un po' nel corso degli anni ecco quindi quella iniziativa che lui quale rettore dell'università decise di intraprendere non era isolata quella che riguardava Marco Pannella e poi dicevo il libro ecco il libro è per davvero prezioso un dono che tu ci hai fatto perché insomma di svela sappiamo credo gran parte delle cose che c'è da sapere sulla vita sulle battaglie sull'esperienza sulle intuizioni di Marco Pannella ma ci sono degli aspetti meno noti che che si ricavano da questa da questa importante pubblicazione per esempio non che fosse non fosse noto ma non era non era e non è forse sufficientemente noto il pannella ecologista il pannella visionario il pannella lungimirante per le battaglie sull'ambiente sull'ecologia il pannella si ricorda molto sul nucleare ma non si ricorda su molte altre cose che tu invece qui ci hai raccontato lui parla di sesto idrogeologico lui parla dei fitofarmaci il tema che mi è chiaro del tentativo non alla caccia ci sono molte battaglie ecologiste per esempio io non ricordavo bene non avevo un ricordo nitido del fatto che fu lui ad animare le prime liste verdi dei verdi la vicenda del simbolo e così via prima di lanciare il partito transnazionale che tutti quanti ricordiamo anche lì con una capacità previsiva diciamo così della dimensione globale dell'agire politico che riletta oggi è per davvero straordinaria ecco quindi grazie Alfonso grazie perché insomma hai convendiato questa bella importante sono convinto fertile fruttuosa competizione elettorale a sostegno di Luciano D'Amico l'hai convendiato con una bella iniziativa di qualità grazie sì io aggiungerò poche cose però prima chiederei ad Angelica di dare aspettiamo che torna Luciano magari sto abbastanza vicino ho la mia regista di Radio Radicale che dice quello che devo fare allora no allora non so se verificate Luciano che tempi ha perché così cerco di capire no se finisce tra 5-10 minuti poi magari ma vediamo cerchiamo di capire perché è una cosa breve scusate ma perché siamo in piena fase finale della campagna elettorale quindi è giusto che il candidato presidente fa anche altre cose insieme allora giustamente Giovanni è stato molto attento nel raccontare abbiamo recuperato il candidato presidente poi sembra così ma tutto funziona allora accomodati pure allora direi prima di chiedere a lei qualcosa perché io stavo dicendo appunto sarebbe importante soprattutto per i giovani io negli ultimi anni ho lanciato da due anni una rete che si chiama EcoDigital che è una rete che mette insieme amministratori giovani start up imprenditori innovativi tra l'altro ci sono alcuni imprenditori qua amici che sono stati quelli che hanno dato seguito a una mia legge che è stata quella per il fotovoltaico nel 2007 perché poi io ho fatto la legge però se non c'erano gli imprenditori che poi trasformavano una legge anche in azioni non succedeva niente così come quando ho fatto nel 2001 la riforma dell'agricoltura sono contento che tutti sono contenti però il cambio dell'agricoltura italiana è dovuto poi agli agricoltori non è un caso che io presido ancora il comitato nazionale di Campagna Amica che hanno trasformato la grande riforma sulla multifunzionalità nei mercati degli agricoltori negli agriturismi negli agriasilo eccetera quindi ci vuole poi chi fa le cose io ho messo insieme questa rete diciamo eco digital per mettere insieme la transizione ecologica e digitale e dare soprattutto ai giovani la possibilità e la speranza quindi l'idea che ci sia un impegno del candidato presidente in particolare a creare infrastrutture poi un ex rettore ovviamente ancora più attento ai giovani perché per natura diciamo si è posto il tema dei giovani noi dobbiamo riuscire e io ho fatto molti eventi eco digital quindi speriamo di farne al più presto uno con il nuovo presidente dell'Abruzzo perché è importante capire che noi se diamo infrastrutture digitali veloci efficaci eccetera possiamo garantire a tante persone di tornare innanzitutto e di restare e quindi credo che una richiesta di Angelica al candidato presidente potrebbe essere una cosa che ci fa più salve a tutti allora innanzitutto vorrei partire da quanto detto in precedenza sull'importanza dell'Abruzzo che non deve essere una regione da cui andare via da cui partire ma una regione che deve coltivare anche i talenti locali e non io essendo una studentessa fuori sede vorrei innanzitutto sottolineare va benissimo allora volevo sottolineare l'importanza dell'istruzione dell'università di Pescara di cui sono una studentessa e di quanto sia importante anche il corso di digital marketing perché comunque è un corso molto molto attuale perché andiamo in un futuro totalmente digital e vorrei anche sottolineare quanto sia stato importante per noi studenti approcciarci a questo nuovo corso che ci ha dato la possibilità di capire come effettivamente l'Abruzzo è una regione molto molto ricca che offre tantissime possibilità per noi ragazzi che siamo arrivati qui ma anche ragazzi del posto e per questo volevo anche presentare questa start up innovativa che appunto si occupa di promuovere un futuro più green più sostenibile che permette alle aziende di raggiungere performance superiori basandoci proprio sull'innovazione digitale sull'innovazione tecnologica e niente proprio per un futuro che dia anche più speranza non solo alle aziende ma anche a noi giovani che andiamo verso questo futuro un futuro green un futuro digitale ecco sosteniamo l'innovazione grazie grazie noi come potete immaginare i tempi sono molto stretti perché vogliamo rilanciare con il candidato presidente anche appunto questo impegno verso i giovani e questo impegno di mettere 100 borse di studio dedicata alla figura di Marco Pannella nei prossimi anni ovviamente lo facciamo domani ma è una cosa che faremo comunque perché è importante questo io ringrazio Giovanni perché ha letto ieri abbiamo andato in pdf ha letto il libro quindi ha fatto pure gli studi ed effettivamente perché io dico i tre settori pannella ecologista pannella non violento pannella diritti civili tre temi diversi faremo 33 33 33 100 borse di studio per lavori studi idee progetti cose innovative digitali perché effettivamente e Giovanni lo diceva Pannella anche lavorò non è stato il primo consigliere regionale dei Verdi eletto in Campania quindi è stato eletto in Campania nel 85 io fu eletto al consiglio comunale di Salerno e lo aiutammo invece e sosteniamo Pannella che fu eletto al consiglio regionale poi lasciò dopo poco come spesso faceva perché era come dire puntava a fare la campagna per manifestare un'esigenza diciamo così parlò del geologo di comune del geologo di quartiere quindi come dire giustamente non avevo pensato a Legnini anche nella sua qualità di commissario straordinario a Ischia sta facendo un grande lavoro finalmente si può vedere che le cose si possono fare quindi io direi di lasciare due parole in chiusura al Luciano ed è fondamentale dire che anche in questo momento io l'appello che mi sentirei di fare attraverso Radio Radicale visto che siamo in diretta è che secondo me chiama Pannella in Abruzzo deve votare Luciano D'Amico c'ha un voto per il rettore che ha dato a Pannella la laurea onoris causa e l'ha fatto molto tempo prima di pensare anche vagamente di candidarsi quindi l'ha fatto non finalizzato al voto in tempi non sospetti prego grazie ma è un invito che accolgo e accolgo con grande piacere con grandissimo piacere è un invito quello del sostegno ai giovani alle start up ai giovani start up mettiamola così che si deve realizzare lo faremo senz'altro il raccordo qui in Abruzzo con le quattro straordinarie università tu ci ricordavi che sei iscritta all'adannunzio che su proposta della regione con una condivisione di progetti auspichiamo possano mettere a disposizione tutti i loro laboratori tutte le loro attrezzature per poter accompagnare le start up neocostituite accompagnarle nel loro primo percorso di affermazioni noi questo vogliamo fare abbiamo un potenziale di attrezzature laboratori locali strutture che possono se messe a disposizione anche dei giovani certo che le attrezzature servono in via primaria per fare ricerca scientifica ma siamo convinti che mettere a disposizione di giovani start up per questo patrimonio delle quattro università potrà consentire ai giovani start up per dire di creare delle aziende e potrà con queste aziende che si andranno affermando realizzare quello del nostro sogno alzare il livello tecnologico del sistema produttivo regionale se noi riuscissimo e ci riusciremo ad alzare il livello tecnologico il livello delle tecnologie utilizzate riusciremo a creare posti di lavoro non povero non precario e coerente con l'alto livello di specializzazione dei nostri giovani questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e lo faremo insieme ringrazio giustamente la signora mi faceva notare che oggi è anche l'8 marzo anche se Pannella avrebbe detto che delle donne ci si occupa tutto l'anno non solo l'8 marzo so perfetto so che il radio radicale farà delle cose a parte quindi non siamo noi a doverlo fare però Pannella è stato anche femminista diciamo da questo punto di vista di tantissime battaglie proprio per nello spirito nello spirito di Marco Pannella oggi all'Aquira nel nostro comizio di chiusura regaleremo a tutte le donne che interverranno la mimosa no la Costituzione perché bisogna occuparsi per tutto l'anno e allora auguri doppi perché oggi tra l'altro ci sarà io ero andato 15 giorni fa un sabato a fare un evento a Cagliari a Quarto Sant'Elena nel villaggio proprio degli agricoltori l'incontro con i giovani agricoltori l'abbiamo fatto là con la Todde e con Giuseppe Conte e spero che oggi l'intervento della Todde sia un elemento aggiuntivo che spiega agli abruzzesi di dare anche agli abruzzesi una svolta positiva progressista innovativa ecologista a questa regione grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti